buonasera benvenuti sono matthew e l'appuntamento tanto desiderato da me perlomeno è arrivato mi trovo allo studio larone 10 e stasera eseguirò una serie di brani al pianoforte da me composti negli ultimi più o meno vent'anni diciamo dal 94 95 in poi alcuni sono stati composti insieme al mio amico di una vita francesco pain brani che sono diventati vere e proprie canzoni quando avevamo la nostra band storica su una stazione centrale e niente tutto in diretta e anticipo subito che questi brani faranno parte del mio album che si chiamerà solo piano in quanto è solo pianoforte dovrebbe uscire spero entro la fine dell'anno e un consiglio che vi do in anticipo è quello di ascoltare in cuffia perché sia il video che appunto l'audio sono in alta qualità quindi in hd mi perdonerete se ci sarà qualche errore ma insomma fa parte della della diretta un'altra cosa che volevo dirvi è che non potrò interagire con voi ci sarà dietro le quinte qualcuno che la farà lo farà per me e la diretta sarà visibile dalla mia pagina facebook methew m a t y o e commenti critiche tutto quello che volete sarà assolutamente gradito niente godetevi insomma i miei brani spero che ovviamente vi piacciano e spero di regalarvi un momento piacevole di assoluto relax ma soprattutto di buona musica grazie a tutti 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 grazie a tutti